Regoci insieme col Biancherosso TV Sport intanto in bocca al lupo Alter Lizzi che gioca la gara di playoff contro il Molfetta squadra che noi abbiamo sempre seguito e continuiamo a seguire mostriamo le immagini della partita indifferita e al Cusbari gli omati Cusbari che sta finendo il campionato speriamo che lo finisca nel migliore dei modi allora Torrente rispetto al suo futuro sentiamo il tecnico del Bari io personalmente devo ancora parlare con la proprietà una volta parlato con la proprietà poi vediamo quali sono gli obiettivi e lì farò le mie valutazioni io penso di avermi già espresso in altre occasioni però confermo anche oggi nel senso che con un programma che si può provare a vincere se questo non c'è allora allora con dispiacere prendo in considerazione altre cose io penso di aver fatto un buon lavoro in questi due anni insieme a questi ragazzi straordinari quindi mi piacerebbe avere un obiettivo diverso un obiettivo che merita questa diciamo questa città che è ambiziosa e altrettanto io a questo punto sono ambizioso per provare ripeto a vincere cosa manca intanto ci vuole bisogna riorganizzarsi perché ci sono delle potenzialità incredibili qui si può far calcio a grandi livelli però bisogna che la società si riorganizzi e poi ci vogliono ci vogliono i soldi ma neanche tanti secondo me poi ci vogliono le idee come è successo in questi due anni a noi di trovare i giocatori funzionali per un progetto ambizioso quello che cancellerei è il mercato di gennaio che è quello che secondo me ha fatto perdere gli equilibri a questa squadra quello si anche nel parlare le persone oneste le persone oneste quando parlano non puoi che dargli ragione appunto quando uno racconta frottole balle alla fine diventa in viso a tutti quando una persona parla con onestà con trasparenza quando non è disonesto ma è in buona come dire a buon senso come torrente non puoi che dirgli bravo ora a prescindere io ricorderete che anche quando le cose non andavano bene ho sempre detto a me piace torrente perché al di là del tecnico è anche una persona per bene la vita deve essere fatta di persone per bene bisogna avvicinarsi alle persone per bene perché se noi pensiamo ci facciamo incantare c'è molta gente bugiarda nel calcio c'è molta gente approfittatrice questa è una persona per bene ecco perché quando l'ho visto quando l'ho conosciuto fiducia anche quando ho sbagliato sul campo glielo ho perdonato perché comunque è una persona per bene puoi perdonare più di quanto non debba fare con una persona in mala fede Enzo ma tu hai sentito quello che lunedì io ho ripetuto ancora una volta anche tramite i microfoni di Radio Bari torrente il valore aggiunto del Bari perché io sono convinto che molti di questi giocatori se vanno a fare campionati di questo tipo altrove naufragano non solo quelli dello scorso anno scusami Gianni Crescenzi si giocano a Vara ma non è quello che giocava a Bari Garofa non è neanche titolare nello Spezia gli altri si è persa traccia Foristieri non so che stia facendo in Inghilterra Stoian gioca qualche partita nel Chievo ma poca roba quando mancano altri titolari è poca roba quindi questo è un allenatore bravo super bravo per me sì e ti dirò di più che parlano anche i numeri come hai potuto ascoltare quello che ha detto lunedì a Silvia praticamente questo ha fatto 14 vittorie fuori casa in due campionati nessun allenatore in serie B è riuscito a fare tanto come del resto è successo soltanto a Conte che praticamente aveva una squadra stratosferica non dimentichiamo i Barretti i Guberti i Kutuzop per tutto il resto ora invece questo non solo che ha superato i vari Catuzzi i vari Caboni i vari Toneatti i vari Alassio naturalmente è un giovane di 47 anni che potrebbe fare molto di più però non con l'autogestione non diciamo fesserie se vogliamo continuare con l'autogestione è bene che lui vada via per il suo interesse per il suo interesse ha detto anche credo che sia stato assolutamente chiaro allora c'è una lettera mi pare ma no dei saluti io c'ho una lettera di un giovane calciatore Daniele Genchi il quale tra l'altro si è complimentato proprio per quello che è stato il nostro commento su quello che è cioè le ultime 14-16 partite del Bari con quelle che praticamente Torrente ha ottenuto poi ci sta Donato Columbo e Marco e Pinuccio Lattanzi i quali seguono costantemente la nostra trasmissione e poi c'è la signora Daria Daria con i due figlioletti che è puntuale ogni venerdì sia a quest'ora e sia la sera alle 11 a seguire la trasmissione di Telebari questo non può che farci piacere allora lo spazio dell'ex è un po' particolare oggi perché l'avremmo dovuto fare in verità più per Novara Bari che per Bari Cesena però lo vogliamo recuperare perché comunque è un ex al quale siamo molto legati ed è giusto precisare alcune cose perché magari a molti è sfuggita la notizia che Nicola Ventola col calcio scommesse non c'entra nulla non c'è centrato per niente non c'entra nulla non c'è centrato per niente mentre a un certo punto era finito nel calderone con ovviamente fango da tutte le parti invece Nicola esce pulito da questa vicenda siccome è uno cresciuto con noi al quale abbiamo dato fiducia gli vogliamo bene era giusto dargli la possibilità per bene infatti ho conosciuto il papà che purtroppo non c'è più Vito una persona straordinaria una mamma una famiglia straordinaria allora Nicola in questo momento è a Los Angeles perché sta seguendo un po' il lavoro della moglie la famosa modella brasiliana Cartica però presto Nicola tornerà dalle nostre parti e adesso lo dice anche lui in qualche modo allora sentiamo Ventola intervistato poco fa grazie a tutti